quando si mangia quando si mangia ed eccoci qua alla seconda puntata di quando si mangia il programma di cucina in cui andiamo a darvi qualche consiglio per arricchire il menù di casa vostra e come sempre lo facciamo in compagnia con andrea goletto ciao andrea ciao a tutti l'ultima volta abbiamo fatto in realtà una premessa di quello che è il ruolo del cuoco all'interno di una cucina quindi oggi portiamo la prima ricetta di quando si mangia e andrea tu cosa ci hai portato che portato la bagna cauda ecco bagna cauda ora parliamo la stessa lingua andrea allora bagna cauda acciughe olio aglio esatto una roba che se non conosci la bagna cauda credo che la schiferebbe un po chiunque ma in realtà è un tassello veramente molto importante della nostra cucina parlaci un po di questi ingredienti perché sono bizzarri l'acciuga non è il classico prodotto di montagna beh no infatti dobbiamo risalire alla storia per trovare questo motivo erano i nostri nonni e trisavoli che partivano e camminavano lungo le vie del sale per andare nella zona di inizia e vicino alla foce del rodano al fine di prendere queste acciughe rigorosamente rosse di spagna molto famose per la loro carne e per il loro sapore e appunto portarle qui nelle nostre zone c'è un motivo per cui andavano a prendere le acciughe innanzitutto è il fatto che lo usavano come spediente per pagare meno dazzi sul sale infatti su ogni barile di sale ricoprivano con uno strato di acciughe salate e quindi andavano a pagare meno i dazzi so che tra l'altro non era una cosa solo delle nostre parti assolutamente no infatti c'ha origini francesi infatti quando andavano a prendere le acciughe nella zona di inizia della provenza videro questa salsa tipica francese che si chiama l'anchoisade e da lì ho preso lo spunto per poi fare la nostra bagna cauda so che alcuni nel periodo più moderno aggiungono anche la panna ma ci va o no questa panna beh diciamo che non c'è una ricetta esatta è una ricetta molto soggettiva la ricetta originale sarebbe aglio olio e acciughe ovviamente i tempi cambiano anche i gusti e le esigenze quindi negli ultimi tempi siamo andati ad aggiungere e tra virgoletta profanare questa ricetta con la panna o con il latte quindi abbiamo un po creato la base di questa salsa ma con cosa lo possiamo mangiare innanzitutto la bagna cauda è nato come piatto conviviale infatti si mangia tutti insieme attorno a questo tipico fujot si chiama di terracotta si si degusta pucciandoci dentro varie tipologie di verdura che possono essere le patate i cardi gobi di monferrato le carote i cavoli cappuccio il sedano un sacco di verdure ma invece la carne si utilizza o no la carne viene utilizzata soltanto negli ultimi tempi perché ha visto che ha un abbinamento davvero fantastico i due sapori si uniscono perfettamente infatti nelle cucine di oggigiorno andiamo a trovare la battuta spesso servita con una salsa sopra di bagna cauda ecco probabilmente la carne non era magari un prodotto che si potevano permettere tutte le famiglie piemontesi una volta e no dobbiamo pensare che questo qua era un piatto contadino poverissimo e quindi all'epoca non avevano la carne da abbinarci originariamente i contadini la usavano appunto con le verdure e anche con la polenta che è un altro piatto poverissimo un abbinamento che invece veniva già fatto all'epoca e quello con i vini beh sì la bagna cauda si sposa benissimo con i vini nostri piemontesi che possiamo citarne alcuni dolcetto barbera o addirittura il barolo il barbaresco proprio per il loro sapore corposo e intenso vanno ad abbinarsi benissimo con il sapore forte dell'acciughe dell'aglio ecco però adesso vogliamo sapere bene il segreto per una buona bagna cauda innanzitutto ci vuole tanto tempo per farla perché deve essere cotta a fuoco lento per diverse ore l'olio deve soffriggere piano piano con l'olio e l'acciughe finché si disfano e vanno a creare questa salsa amalgamata un altro prodotto che non è proprio delle nostre zone è l'olio d'oliva perché non è il piemonte non è famoso tanto per i suoi olivi in effetti sì appunto l'olio ce l'hanno portato i nostri amici liguri però originariamente si dice che attorno al 1900 ci fossero ancora degli olivi nella zona del monferrato e dell'astigiano quindi da qui si è andato a creare l'utilizzo dell'olio di oliva molti puristi pensano che invece originariamente fosse fatta con l'olio di noci di cui siamo pieni la bagna cauda era sicuramente un piatto per poveri ma adesso è entrato all'interno anche delle cucine più rinomate si è diventato molto famoso negli ultimi anni infatti tante cucine stellate tanti ristoranti oggigiorno cercano di dare nuove consistenze e nuovi abbinamenti a questo piatto fantastico posso citare alcuni esempi come può essere la spuma fatta con i sifoni di bagna cauda o altre gelatine di bagna cauda che vanno a abbinarsi con carni o pesci o addirittura verdure al fine di dare provare nuove esperienze di questo fantastico piatto sicuramente anche per andare un po modificare quell'impatto visivo della bagna cauda dandogli un'altra consistenza dandogli un'altra forma sì perché oggigiorno comunque diamo tanta importanza all'estetica ci piace vedere nel piatto le cose ben presentate di conseguenza i cuochi di oggi hanno cercato di dare una forma nuova a questo piatto ok grazie andrea di averci spiegato meglio questo piatto apparentemente semplicissimo perché formato di base da tre ingredienti ma che in realtà ha una storia veramente pazzesca agli ascoltatori invece vi diamo appuntamento alla prossima puntata di quando si mangia e buon appetito quando si mangia quando si mangia